Rispetto al passato la lana non ha più il mercato di una volta, magari gli allevatori si concentrano come diceva lei su prodotti che vanno a finire nella grande distribuzione mentre la lana è un rifiuto speciale che deve essere smaltito. Ovviamente lo smaltimento si basa su delle procedure abbastanza onerose e purtroppo gli allevatori non sempre utilizzano queste procedure e quindi si crea il problema dell'inquinamento. Noi vogliamo fare leva su questo problema per cercare di dare un'alternativa a questo rifiuto per far sì che diventi una risorsa per il territorio. Naturalmente il nostro principale obiettivo è ridurre i costi ambientali che la lana dà come scarto e quindi noi intendiamo anche ridurre i costi di trasporto e speriamo di poterci dislocare in varie località siciliane e con l'aiuto magari delle amministrazioni locali possiamo anche dislocarci in posti come Gela che ci ha invitato e ha voluto fortemente questa iniziativa qui e quindi anche in altre località che saranno disponibili.